La Commissione europea ha incluso l'intero tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria come parte della rete globale nella proposta di revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti, Tenti, ad annunciarlo l'euro parlamentare di Fratelli d'Italia, Vincenzo Sofo. Ho ricevuto ieri la risposta del commissario europeo ai trasporti, Adina Valian, alle interrogazioni parlamentare con cui avevo denunciato l'esclusione dell'intero tratto della statale 106 dalla revisione del progetto di rete infrastrutturale europea, Tenti. Il commissario Valian, spiega Sofo, mi ha comunicato la correzione del progetto revisionato riconoscendo dunque la strada statale 106 come infrastruttura strategica per l'Europa. Si tratta di un risultato importantissimo per il territorio calabrese con il riconoscimento da parte dell'Unione Europea della dorsale ionica come fondamentale per lo sviluppo non solo del Sud, ma di tutto il continente. Il risultato è arrivato in estremis, considerando l'allarme che Fratelli d'Italia lanciamo a novembre dopo che la stessa Unione Europea rispose a una mia prima interrogazione segnalando di non aver avuto alcuna richiesta da parte del Governo. Dopo la risposta della Commissione europea, il deputato di Fratelli d'Italia Vandaferro ha sollecitato il Governo ad un intervento urgente affinché venisse avanzata la richiesta di inclusione della 106, ma a metà dicembre l'Unione Europea ha comunicato il nuovo progetto in cui è stata confermata l'esclusione del tratto meridionale della 106. L'onorevole Sofo ha dunque presentato un'ulteriore interrogazione al commissario Valian per conoscere le motivazioni ufficiali dell'esclusione e insistere per l'inserimento dell'opera finalmente poi raggiunto e che ora rende necessario il reperimento delle risorse da parte del Governo nazionale. Una vittoria per Fratelli d'Italia che su questo tema ha messo in campo una mobilitazione straordinaria nelle sedi istituzionali e sui territori. Oggi c'è la grande opportunità di realizzare una strada moderna e sicura dice anche l'onorevole Vandaferro, necessaria per togliere interi territori da un sostanziale isolamento e renderli maggiormente competitivi.